Vivere a Dubai di notte con solo un euro è possibile? La risposta è... Dipende naturalmente perché come state osservando ragazzi Dubai è famosa perché è anche una delle città più costose al mondo Potete infatti vedere ragazzi il livello di ricchezza solamente dai grattacieli ma questo non dipende al 100% Quindi in questo video sapete cosa faccio? Prendo questa bellissima banconota, me la inserisco dentro la tasca E direi senza perdere tempo di uscire raga e andare a vedere più o meno come funziona la vita a Dubai di notte Perché sono esattamente le 22 di sera ma questo video naturalmente lo faremo durare un po' di più Fatemi chiudere la porta ci siamo signori stiamo andando al supermercato principalmente inizieremo col supermercato Anche perché è impossibile ragazzi è veramente impossibile andare in un ristorante con un euro Faccio un piccolo esempio, voi nella vostra città quanto lo pagate un hamburger con patatine? 10, 15, 20 euro? Sapete quanto costa di media un hamburger con patatine al centro? 75 euro 75 euro! Non perdiamo tempo? Piano, zero naturalmente Ma ora che ci penso anche al supermercato secondo me è impossibile trovare una cosa ad un euro Cioè un euro sarebbero praticamente 3 a head perché qua ragazzi non lo sapete ma la moneta non è l'euro ma è a head quindi dirham 3 dirham sono praticamente un euro ma possiamo approssimarli a 4 dirham a un euro Dunque signori eccoci qua siamo a Dubai come state vedendo siamo fuori siamo usciti dal mio palazzo E abbiamo diverse opzioni perché là sotto non so se la vedete ma c'è praticamente la Carrefour Proprio questa qua di fronte a voi Carrefour E teoricamente è aperto proprio ora che sarebbe questo qua Ora non so se riuscite a vederlo ragazzi Vi faccio anche vedere più o meno come funzionano le strade qua a Dubai perché hanno delle regole molto molto severe Ovvero ci sono i semafori anche per i pedoni ragazzi Ok raga nel mentre potete vedere quanto traffico che c'è signori mamma mia una roba allucinante Stiamo andando a questo fantomatico supermercato non so neanche se è aperto ma sembrerebbe essere nuovo Quindi teoricamente potremmo trovare dei prezzi letteralmente ridotti Generalmente appena apre un supermercato i prezzi non sono così tanto alle stelle Signori mamma mia che vista mamma mia che vista eccolo qua lo vedete signori Lo vedete che c'è scritto praticamente fresh e qualcosa lo si legge lo si legge Ecco qua teoricamente è aperto c'è scritto now open Sapete cosa significa questo i prezzi sono bassi oh mio dio raga abbiamo 4 ed abbiamo 1 euro Entriamo da qua si dovrebbe entrare da qua non so dove caspita siamo raga Non so dove caspita siamo Ok e non vedo nulla non vedo praticamente nulla Raga oh mio dio non so dove siamo finiti ma se questo è realmente un supermercato secondo me c'è qualche problema C'è un letto what the fuck Qua ci sono delle scale che portano su nulla e c'è un letto raga probabilmente di qualche barbone Usciamo 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 porca miseria usciamo raga usciamo Cioè fatemi capire io dove devo andare per entrare in questo supermercato c'è scritto now open e c'è scritto Gentilmente utilizza l'entrata principale e ma qual è l'entrata principale dov'è porca miseria Noi il cambio di programma siamo dovuti venire qua da Carrefour perché l'altro supermercato praticamente non era aperto almeno non riuscivo a capire Quindi siamo qua ora alla Carrefour stiamo per entrare ecco qua questa è l'entrata Ci sono stato diverse volte devo essere sincero in questo supermercato ma non ho mai fatto attenzione proprio ai prezzi Quindi prendiamo il nostro carrello e iniziamo un po' a vedere Allora raga per capire i prezzi per capire i prezzi dovete dividere dovete dividere questa cifra per 3,5 Quindi dividete fate 2 diviso 3,25 e già qua c'è qualcosa che costa meno di un euro raga Perché il nostro obiettivo naturalmente è riuscire magari a mangiare mangiare un bel un bel piatto un pranzo a meno di un euro Quindi abbiamo all'incirca 4 più o meno 4 a ed da spendere Ora se noi prendiamo una di queste cose ci bruciamo già praticamente 2 ed 25 Quindi io prima di comprare questo direi di girare un altro po' per vedere se ci sono prezzi leggermente più bassi Qua abbiamo 2 ed 95 per dei panini 3 ed ok 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 stiamo un attimo girando Forse possiamo realmente riuscire a mangiare qualcosa di buono a meno di un euro Allora signori direi che il mio obiettivo non è fare un pranzo ma fare una merenda Quindi direi di andare sul dolce non andiamo troppo sul salato andiamo più sul dolce Per vedere a meno di un euro cosa possiamo comprare Ora non ho proprio idea non ho proprio 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 idea Forse possiamo prendere della nutella o del cioccolato con dei panini E vediamo se ce la facciamo raga a meno di un euro molto difficile ma vediamo un po' i prezzi Ok signori per quanto riguarda latte il latte lo troviamo a 1 ed 95 che non è proprio male Ma direi di risparmiare prendendo questo da 1 ed 25 il più economico raga Questo è proprio il latte più economico quindi gentilmente segniamo 1 ed 25 Segniamo anche quanto ci rimane effettivamente da spendere quindi già una ed 25 è completamente partito Potremmo volendo prendere anche uno yogurt raga possiamo prendere uno yogurt ad un altro ed 25 Così possiamo fare teoricamente una bella merenda che ci sta ci sta molto 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 tranquilla Vi ripeto a meno di un euro e vediamo un po' cosa troviamo di altro signori Magari da bere direi basta perché abbiamo preso sia latte sia uno yogurt Direi qualcosa da mangiare raga Potremmo prendere della frutta? No della frutta no Anche perché non della frutta no perché raga a me la frutta non mi piace proprio Non mi piace proprio No raga ho trovato ho trovato Voglio assolutissimamente un oreo assolutissimamente raga Ditemi che ce la facciamo col budget ho già perso il calcolo non me ne frega nulla Vogliamo prendere degli oreo così siamo a un po' di latte e uno yogurt da bere Raga così è veramente top così è veramente top Allora ho fatto un piccolo calcolo sono una ed 20 più una ed 20 più una ed 40 Siamo praticamente a 3,8 ragazzi 3,8 Quindi teoricamente abbiamo ancora 20 centesimi perlomeno da spendere ma non trovo nulla A 20 centesimi quindi direi di comprare raga e vediamo un po' torniamo a casa e vediamo se effettivamente è buono quello che abbiamo preso oppure no Signori ho appena pagato 3,80 a ed precisi Quindi siamo effettivamente riusciti a trovare qualcosa a Dubai a meno di un euro naturalmente Adesso torniamo a casa vediamo un po' com'è quello che abbiamo comprato Se il latte è buono se lo yogurt non è scaduto ed è ancora buono ma penso sia naturalmente super intatto E vediamo se effettivamente è possibile vivere a Dubai Se avete la macchina ragazzi che passano supercar Se è possibile vivere a Dubai con pochi soldi Perché questo è un dilemma tutti quanti pensano che bisogna essere milionari Ma magari si può vivere anche con pochi 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 soldi Signori siamo arrivati a casa let's go Allora assumiamo un secondo quello che abbiamo comprato Questo piccola specie di latte succo non so cosa sia Poi abbiamo i nostri fantastici Eccoli qua oreo milk e chocolate Quindi latte e cioccolato molto molto bene E abbiamo per ultimo ma non per importanza un bel yogurt al cioccolato Adesso prendo il cucchiaio e proviamo tutto quanto insieme Partiamo subito raga Allora partiamo vediamo un po' Partiamo con questa specie di succo Cioè questa specie di latte perdonate dovrebbe essere del latte Allora vado apro Let's go Ok ok Dall'odore non è latte ragazzi Non è latte È come se fosse una specie di succo al latte Raga lo so sembro pazzo ma è così Non è male Raga non è male Giuro che non è male Giuro eh Ok lo berrei Lo berrei volentieri Al di là del prezzo ci sta molto Apriamo adesso ora gli oreo Ma naturalmente raga gli oreo non è che possono far cagare Cioè gli oreo sono buoni Non penso che il prezzo caratterizzi gli oreo Comunque sia Eccolo qua il primo lo prendo lo prendo lo prendo lo prendo lo prendo Eccolo qua È leggermente diverso da quelli che compro in Italia Vi ricordo siamo a Dubai Molti prodotti potrebbero cambiare Ma proviamolo subito Vado Vado da un morso Ottimo Raga guardate lo mangio tutto Mmm Buono Adesso e non per importanza Apriamo lo yogurt Dal valore di Trenta centesimi probabilmente Ok raga è mo No No raga Voi non lo vedete Voi no Oddio raga Oddio raga Non so perché non mi ispira proprio Proprio 0 0 0 Ma va bene Vado Prendo Cazzata È veramente buono Veramente buono non so È medio Comunque sia ragazzi Voi mi raccomando Iscrivetevi Lasciate un like per un prossimo video Noi ci becchiamo Dopodomani per un prossimo video Ci becchiamo dopodomani Ciao voi Noi ci becchiamo Noone 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 Grazie.